È ormai una programmazione estiva che per il quarto anno consecutivo presenta i quartieri spagnoli come uno dei punti di riferimento per chi quest'estate rimanga in città e voglia incontrare il meglio del cinema internazionale, italiano e naturalmente anche quello che i talenti straordinari della cinematografia campana e napoletana stanno riuscendo a far diventare uno degli highlights del cinema italiano. Il direttore di Focus Renato Quaia dà il via ai stati a corte, la rassegna di cinema ospitata nella Corte dell'Arte della Fondazione dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Oltre 40 titoli in cartellone fino a settembre e decine di incontri con i protagonisti del grande schermo. Grande spazio è riservato alle produzioni cinematografiche di Napoli della campagna come ci spiega Pietro Pizzimento, direttore artistico della rassegna. Ci sarà Angelo Curti, ci sarà Gaetano di Vaio, ci sarà Antonella di Nocera, diciamo che sono poi i maggiori, quelli maggiormente rappresentativi della regione campania. Luciano Stella è rappresentato tramite Marino Guarnieri con la sezione di cortometraggi d'animazione, quindi se noi diciamo questi nomi, non voglio togliere merito ad altri ma sono quelli che maggiormente caratterizzano la produzione campana. Tra le novità della nuova edizione della rassegna, la collaborazione è con la società Casa Zen, start-up di giovani professionisti che si sono laureati alla Scuola di Cinema dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Sentiamo Fulvio Davide Ricca, socio di Casa Zen. Noi ci occupiamo di video, tendenzialmente, arte, lo chiamiamo studio creativo, quindi quello che facciamo è portiamo idee e le trasformiamo in verità, in qualcosa di effettivamente tangibile e con Focus abbiamo iniziato anche un percorso con l'organizzazione di eventi, proiezioni, quindi sempre legate al cinema che è la nostra passione da sempre, dalla nostra infanzia, quindi vogliamo portare avanti il cinema a Napoli sia facendolo che trasmettendolo, diciamo.